C'è anche una denuncia nei confronti di Irpini Ambiente per smaltimento illecito di rifiuti. Qual è la posizione della società? Assolutamente nessuna posizione, non sappiamo nulla. L'abbiamo appreso dalla stampa, quindi non posso dire assolutamente nulla. Nessuna presa di posizione dunque sull'inchiesta nei confronti dell'amministratore unico e di un funzionario per inquinamento e smaltimento illecito di rifiuti. Irpini Ambiente si trincera dietro il silenzio anche perché la notizia dicono l'abbiamo appresa dalla stampa. Ma la conferenza convocata dai vertici della società che gestisce il servizio rifiuti in provincia ha un altro tema all'ordine del giorno. La presentazione di un nuovo impianto di selezione e valorizzazione della raccolta differenziata attraverso il recupero di carta, cartone, plastica e vetro. L'impianto alla cui nascita si lavora da dieci anni si trova a Montella e sarà inaugurato il prossimo 7 luglio. Tanti temi sul tavolo anche in vista della nuova normativa in materia con il ritorno sulla scena dei comuni attraverso lato rifiuti. E poi ci sono i costi della società da ridurre e i comuni morosi che ancora non pagano. Un nuovo impianto per Irpini Ambiente. Lei ha detto di non essere preoccupato dalla nascita del lato rifiuti. No, assolutamente no. Lato rifiuti rappresenta quello che è il futuro in questa gestione del ciclo. Le norme vanno rispettate e quindi va bene che ci sia lato. Il problema è la scelta del gestore che tra l'altro non mi preoccupa perché noi cerchiamo di dare un senso alla continuità delle cose. Come vede, benché la norme ci dice che il 30 novembre la vecchia normativa va a casa, noi produciamo e andiamo avanti anche per lasciare a chi eventualmente verrà dopo di noi qualcosa di concreto. Il problema è la riduzione dei costi. Con questo impianto si riesce a ridurre i costi? Io l'ho detto varie volte che il problema della riduzione dei costi riguarda l'impiantistica. Quindi ogni impianto che nasce significa possibilità di riduzione di costi. Per quanto riguarda le casse di Irpini Ambiente, il problema dei comuni morosi si è fatto qualche passo in avanti? No, il problema dei morosi morosi sussiste. Irpini Ambiente oggi ha circa 50 milioni di crediti. Noi cerchiamo di tamponare queste difficoltà economiche dei comuni, lo facciamo in stretta sinergia, comprendendo le ragioni di tutti. Perché purtroppo è un momento particolare. Naturalmente chiediamo ai comuni, ma tra l'altro c'è un rapporto quotidiano con gli enti, di cercare un attimino di non far soffrire la società. Perché naturalmente non avendo un'adeguata liquidità, anche nelle trattative e quindi nei rapporti che si hanno con i terzi, è un punto di debolezza. Quindi noi, e anche nel rispetto agli investimenti da realizzare, perché lei capirà che se oggi invece di avere 50 milioni di crediti, avessi 50 milioni di cassa, potrei pensare di fare altre cose.